to the good old days when the mama sang us to super night salve a tutti i ragazzi siamo tornati con un nuovo video ragazzi oggi ci troviamo finalmente su clash royale allora ragazzi lo so non vedete il baule leggendario ma tranquilli perchè il baule leggendario la clip del baule leggendario la ho a parte quindi ve la faccio vedere dopo allora vi spiego un po' cosa è successo voi vedrete il baule leggendario ripreso da una videocamera così ok così perchè durante la notte mentre giocavo mi è scappato al dito e l'ho aperto per sbaglio quindi mi dispiace per voi però vi tocca vederlo così però vi faccio vedere che ho trovato anche il baule epico una settimana dopo e una settimana dopo ancora il baule magico che ovviamente apriremo al momento con le gemme ma adesso partiamo da questo stupido baule lo scorso video ha raggiunto i 40 mi piace quindi grandissimi più di 40 perfetto io direi di partire e vediamo un po' cosa ci troviamo baule epico il principe non mi serviva la mongolfiera il cucciolo il drago va benino perchè l'hanno potenziato e il bowler che schifo 11 tornado peccato speravo in meglio ma fa niente adesso gemmiamo subito il baule magico ti prego se trovo una leggendaria qua il top ragazzi non ne ho mai trovate 557 di oro 5 orte di sgherli che schifo che schifo no ti prego no niente da fare ragazzi e ora le tre streghe peccato peccato ci ho sperato per un attimo però come al solito con i magici e i super magici io sono letteralmente sforzato oddio ragazzi ho aperto vabbè ho aperto per sbaglio il baule leggendario e ho trovato proprio quella che volevo la cimitero io la so fare benissimo la cimitero perfetto così scusate avrei voluto fare l'ultra gesto opening la con anche il baule magico però sono uno scemo vi ho fatto vedere un po' la cimitero ovviamente appena trovo il magico unisco la clip della cimitero a quella del magico dunque ragazzi se questo chest opening vi è piaciuto vi invito a lasciare un like avete visto che ho aperto il baule d'argento il baule epico il baule magico e appunto il baule leggendario se volete venerdì altri mi raccomando lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale e ciao 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 ciao